Capito, anche perché il legno è una fonte rinnovabile, capito, anche a differenza dell'oro che una volta che l'hai cicciato lì, l'hai cicciato, basta, è finito. L'oro ce n'è un quantitativo in tutta la terra, che hanno detto che sono quattro piscine olimpiolite. Sì, 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 certo. Capito, ma non è che dici, stai... No, ho cavato, diciamo che ho cavato, che non si ricche anche oggi, riempiono due piscine merda. Due piscine, ma è tutto l'oro del mondo, dove l'ho diviso sulle quattro o sei piscine, perché mi dico... Eh, ma ti prestavo di più, per quello che comunque è raro, voi siete raro, non date lo scasso, perché... Beh, sì, ma poi infatti se guarda il volume... È bello grosso, eh. Però... E guarda solo la Banca d'Italia, che hai visto che cazzo c'è lì, in Italia infatti c'è quasi una piscina, eh. In Italia da sola c'è quasi una piscina, perché poi ti ho detto che gli altri sono americani e russi, i pezzi grossi, in Inghilterra, noi siamo tra i primi quattro, hai capito? Tutti gli altri poi non hanno un cazzo in confronto a noi, se stai a vedere, ma proprio un cazzo. C'è una nuova banca, ma mai... Non lo prende neanche su una pagliuzza, grazie al... Sistema ottone... Sistema ottone calamita. Questo centimetro è sufficiente per non tirare su loro e smuoverle. Guarda che bello. Così almeno tirare su a punto. Sì, perché la sabbia viene via molto più facilmente. Ottimo direi. Sì, però... Grazie a tutti. 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 Vi faccio vedere questo risultato. Un po' di piombo. Poi il piatto finale, giusto due... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.